Una nuova affermazione della tecnica navale italiana, il varo dagli scali dei campieri riuniti dell'Adriatico del super transatlantico Stockholm. Tre eliche azionate da tre motori diesel assicurano la propulsione di questa che sarà la più grande motonave in servizio sulla rotta Nord Europa-Nord America e la prima che disporrà di uno speciale impianto per il condizionamento dell'aria nelle cabine. Madrina, la principessa Ingeborg, cognata del re di Svezia, che accompagnata dal duca di Spoleto, dal sottosegretario alle comunicazioni e da numerose altre personalità, presenzia il varo, concreta manifestazione delle buone relazioni commerciali esistenti tra l'Italia e la Svezia. Ingeborg, cognata del re di Svezia. Ingeborg, cognata del re di Svezia.